John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuovissima puntata con la carriera allenatore con lo Steve Nage visto che ieri vi è piaciuto tanto oggi voglio raddoppiare la posta in gioco ragazzi se questo video raggiunge 2000 like essendo sul secondo canale 2000 like domani nuovo episodio, quando raggiunge 2000 like vi porto il nuovo episodio detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di supportarvi con un commento qua sotto leggo sempre i vostri commenti e alla fine a male in cuore ho deciso di, se me lo fanno fare, di cacciare Coda ho deciso di cacciare Coda ragazzi perché purtroppo è triste perché qualcuno ha detto sì che è troppi giatori tristi ma in realtà io ho controllato e giatori tristi sono solamente Maldini e Coda Maldini ora lo faremo già un pochino più così a contento loro sono tutti comunque nella media, tutti come lo definiresti questo nella media e ok diciamo è scontento è solo Maldini e Coda io Coda ragazzi lo vado a cedere no troppi giocatori ceduti, allora niente, allora ho detto tutta sta storia ho fatto l'alzà, devo aspettare il calciomercato se in quattro giorni non ci esoneranno allora possiamo farlo detto questo dobbiamo giocare contro il Salford cerchiamo di vincere perché almeno non c'è il rischio appunto che ci esonerino poi magari ci esoneranno uguali ma noi questo non lo possiamo sapere per quanto riguarda la gara del giorno io vorrei dare un po' di spazio a Coda dallo stadion Zonzi ma quanto cazzo sei veloce si gioca ragazzi Salford Stevenage mamma mia oggi ci giochiamo tutto la nostra panchina traballa eccolo Coda regà oggi Coda deve fare 3 gol così è contento e non rompe gli coglioni e invece sbaglia subito un pallone Coda Coda attenzione Coda, Coda, Coda comunque questi arrivano dappertutto sono dei cazzo di polipi Casadei non è male regà ve lo dico Casadei non è per niente male futuro titolare in premier Casadei guardatelo guardatelo vabbè mu hanno spostato invece no ancora sua invece non l'ha persa però non è per niente male partita super bloccata zero tiri fino a questo momento da una parte e dall'altra Casadei, Loder Loder si gira, tira me l'ha presa ma sai che cazzarola di tiro brutto che ha fatto Loder piano piano occhio che la palla rimane lì ma questi ripartono in contropiedi io già lo so ma quanto è lontano poi ma perché si vede così lontano chiudi, chiudi, chiudi palla dentro ok meno male che sono cagato sotto regà occhio, occhio madonna è uscita di pochissimo il delle alli dei poveri Loder, Loder, Loder attenzione Loder fino in fondo invece non gliela tolgono non riesco a fare nulla ma nemmeno loro c'è partita proprio brutta fino a questo momento vai, 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 vai lotta catroia catroia fine primo tempo regà fine primo tempo zero a zero che fatica comunque oh è iniziato il secondo tempo ecco la valla per List 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 tafalle va porca troia ma come fate sempre a farvi spostare ma io che ho preso i mingerlini ma che ho preso i nani di merda ho preso pure non mi sembra ecco McDonald tutti a Mac Armstrong ma questi che c'hanno McDonald Armstrong una squadra dei nomi pesanti proprio List l'hai visto? ecco deviata no fuori di ha tirato fuori List te ti fa la convergenza i piedi e non te ne sei accorto fagnoman forse è il primo pallone che tocca fagnoman Loder guarda coda guarda coda ma portacci tua coda perché ti muovi sempre in ritardo perché perché ti muovi sempre in ritardo poi si lamenta no? lui si lamenta rompe il cazzo fa schifo gioca a pallone ma si lamenta non ho parole io non ho parole occhio questo chi è? Gesù mamma mia la pallo è ancora lì chiudi? si prendo col no non è possibile ma poi il mio portiere fa un citofono di merda è un citofono di merda si metto pitu ma metto anche maldini un citofono di merda guarda un colpo di testa brutto in culo dopo quanto salti? vai regà sono usciti casa dei e coda sono entrati maldini e pitu comunque vergognoso vergognoso Romagnoli come fai a perderti il pallone? come fai? come fai? List List vede il movimento in avanti di maldini eccolo ecco maldini rientra maldini servi list no list ti sei perso il pallone tocca ripartita dietro gilmour palle avanti ma come cazzo fai a passaglia lui? uno ce n'era in maglia bianca uno dici ce n'era in 8 tutti intorno a te uno ce n'è in uno stronzo come ha fatto a passaglia a lui? cambio gioco si cambio gioco fai cricket guarda cazzo ha tirato questo vai fighera fighera lo stavo servendo ma era già andato in fuorigioco è assurdo regà è assurdo vanno subito in fuorigioco questi eccolo stop ottimo di list vai fino in fondo list vai fino in fondo mettila dentro eccolo l'other l'other ecco l'other ragazzi ecco l'other a noi dispiace vende l'other mi dispiace perché mi sono affezionato un sacco mi sono affezionato un sacco la palla dentro da parte di list guardate bella palla sul primo pallo l'other anticipa tutti le testa e la va a mettere lì dove il portiere non può nulla ragazzi dai perché mancano 10 minuti buoni mancano 10 minuti buoni possiamo farglielo vai subito Gilmour subito Gilmour party list party list eccolo qua list eh però questo è più veloce non lo so che si è preso dove si è drogato in che modo l'other palla per Maldini Maldini per l'other tiro l'ha presa l'ha presa l'ha presa cazzo l'ha presa cazzo l'ultimo cambio non lo faccio mi sa non lo faccio regà il mercato è troppo inferiore a Gilmour palla dentro niente l'ho messa tra le bracchie del portiere stanno perdendo una marea di tempo loro guarda ricominciano pure da dietro eh la madonna sbaglia cazzo no niente guarda attaccano fino all'ultimo l'ultimazione è messa a loro mortacci vostri via è finita 1 a 1 regà è finita 1 a 1 è finita 1 a 1 eh mo vediamo che dice la dirigenza tanto possiamo aspettare solo il volere della dirigenza e altro non possiamo fare regà sta scendendo la mia valutazione è 49 assurdo vediamo un po' che dicono gori mister cittadino a sole per non aver giocato ah scusami continuo a lavorare sotto comunque sono quasi tutti contenti in realtà regà di più di quello che ho fatto non posso fare non è cattiveria eh io posso fare solo questo che ho fatto tra l'altro c'è il Manchester City vediamo un po' reso conto reso conto tre giocatori che ho cercato vabbè poi in fase di mercato li andiamo a guardare quella coltranmer bisogna simularla dai dai una botta di culo per una volta in vita vostra possiamo vincere 4 a 0 bella roba fighera list list e coda segnato pure coda regà pure le furci c'hanno la tosse coda e io sono sceso ancora assurdo comunque assurdo ragazzi primo giorno di mercato mo vendiamo subito mo vendiamo subito te lo dico subito ora vendiamo almeno sono contenti tanto questo mi do l'ora che esplode perché lo voglio prendere subito Maldini è la tua occasione Maldini io te l'ho già detto pensavo volesse partire allora inizia il calcio mercato allora ho messo tutti in vendita cioè tutti quelli insomma ho messo abbastanza gente in vendita dobbiamo giocare in casa col Manchester City e sono tutti morti ottimo io non vedevo l'ora che sarebbe successo questo ok Antello voglio anche Hobby voglio allora prendiamo Hobby vuole essere cruciale Hobby vabbè dai un anno si però si può fare un contratto così che te per dio almeno due dai oh ignoriamo la clausola e andiamo avanti quanti soldi prendi là 4.300 e io quelli te do 4.300 vediamo se accetta ci sono tanti stessi del Chiavo Verona è ridicola la cifra è ridicola e non ho letto sono un coglione vabbè ho sbagliato io dai la prossima volta leggo eh mo aspetterò vediamo un po' chi ve lo prende anteri che ci ha scritto 12.5 madonna però tantissimo vuole vabbè e 18.5 vabbè ah manco troppo prende prende 23.5 di là va bene 18.5 dopo pure 12.5 ha detto un anno questo vuole vabbè famo un anno e poi l'anno prossimo vedremo allora e io ti offro 14 allora da 18.5 da 12.5 a 18.5 15.5 più bonus dai è fatta mi ha presa anteri detto questo aspettiamo andiamo avanti dobbiamo giocare la partita c'ho una domanda no io al turno 3 sto affrontando il Manchester City ma se le elimino rimango 48 di overall perché potrei uccidere qualcuno eh dallo stadio mi cacciano sicuro ragazzi dallo stadio mi cacciano sicuro oggi c'è una gara veramente più importante della stagione una delle più finora la più importante della stagione ragazzi si gioca Steve Neige Manchester City andrebbe pure bene se non vincevo ma io voglio vincere voglio passare il turno voglio eliminare quella che sulla carta dovrebbe essere penso su FIFA la squadra più forte dell'Inghilterra e quindi vi prego ragazzi facciamo questo miracolo teniamo il pallone caghiamoci sotto facciamogli un gol chiudiamoci in contropiede l'unica cosa non andava a rigori perché Niso batte io mi aspettavo che loro facessero turnover più scarsa è De Bruyne sono ironico eh attenzione Gori tira mamma mia basta sta cazzo di mira c'è meno spazio guarda Giuseppe Mourinho come è incazzato Gori madonna mi da me era male il tiro di Gori comunque guarda Ederson guarda Ederson come è fatto bene che ci stava arrivando giocatori da tendere d'occhio ragazzi lì stai a cuero eh mo mi rincoglielerà Guardiola col suo solito tiki tagga di merda daglia daglia due tocchi a ripartire due tocchi Loder è stanchissimo due tocchi a ripartire eccolo guardalo servilo c'è Gilmour calcia l'ha presa l'ha presa oh siamo pericolosi cazzo siamo pericolosi siamo pericolosi non venite qui a passeggiare palla dentro esce Ederson ma il pallone resta lì dimmi che c'è sto io stai addosso e dai eccolo l'ha presa questo è morto Romagnolo cosa sta succedendo ottima chiusura di Pollock vai Fichera vai Fichera palla in avanti ma se è palla del merda Fichera comunque stiamo a giocare bene regà contro il Manchester City abbiamo fatto 20 minuti veramente perfetti potevamo questa è la passata rovesciata potevamo stare in vantaggio De Bruyne attenzione palla per Sterling attenzione regà palla dentro colpo di testo altissimo meno male mamma mia mamma mia via via sta palla c'ho Gidebu un porta io Gidebu l'ho visto List occhio però Angeligno List palla dall'altra parte per Pitu a centra di Pitu l'hai visto l'hai visto l'hai visto calcia tiro parata centrale mamma mia ogni volta che tiro mi cago sotto se faccio open spacco qualunque cosa ma ti pare ma ti pare Leicester Manchester City si Leicester più o meno stiamo lì Steve NG Manchester City ma cos'è guarda quanto Core Sterling NG lo sta guardando da lontano e dice ma questo ma chi è palla dentro colpo di testa traversa via via quella palla l'ha presa l'ha presa Valcuno mamma mia hanno centrato la traversa raga hanno centrato la traversa poi non so chi me l'ha salvata portieri praticamente battuto mamma mia vai GKB rinvia lontano più che puoi ecco questa prima è l'occasione più grande della partita della mia adesso adesso il City ha preso la traversa mamma mia Klaassen ha visto il movimento in avanti Gilmour 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 madonna io ho cercato di fare la busta sono un folle sono un cazzo di folle ho cercato di fare la busta al terzino del Manchester City De Bruyne De Bruyne contro Gilmour comunque Gilmour ragazzi è ovunque che giocatore spaziale è non te ferma figara te prego non te ferma palla dentro bravo GKB via sta palla no gliel'hai ridata a lui regali componiamoci chiudi porca vacca no 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 chiudi chiudi bravo GKB che è successo fine primo tempo che è successo fine primo tempo ragazzi fine primo tempo che sofferenza che sofferenza fammi guardare un po' i tiri voi vedete i dati partita 3 tiri a 5 per il City 2 a 1 in porta per noi non è male comunque come dato non è male regà non è male per niente considerandosi ragionando al Town Park contro il Manchester City mamma mia regà comunque ma si può ma si può giocare contro il Manchester City adesso che non siamo ancora pronti e me vogliono pure cacciare cioè ti rendi conto occhio occhio chiudi bravissimo vai figara figara in avanti per Gilmour Gilmour hai visto il movimento c'è Lothar in movimento mi prende la velocità e ve l'avevo detto Fernandinho ragazzi non è cattiveria Lothar sei pure bravino però c'è Fernandinho se tu lo perdi tempo o perdi tempo cioè per me no che perdi tempo è una mala ripetizione altre partite c'è se stanca ti gioca l'Etiad dopo ce lo buttano Gilmour per Pitu Pitu per Gori Gori palline avanti per Lothar Lothar deve passarla lo fa la dà figara poi c'è una lotta in mezzo al campo la vince ovviamente De Bruyne Gori contro De Bruyne ragazzi Gori contro De Bruyne ragazzi tacciva Cancelo tacciva De Lucia Cancelo occhio regà Bernardo Silva Cancelo poi mi sta andando in coglioni ah regà ma se è arrivato il momento ne fa un fallaccio se riesco lo faccio oh no io lo levato no scivola dai però e basta deviata calcio d'angolo calcio d'angolo mi consigliano Velasco per Romagnoli bel cambio de merda Velasco è in terzino copre meglio Mizzia tanto è entrato in signo e uscito a Guero io sto male via via Gigabu sparsa la Gilmour no non te nasconde via quella palla chi cazzo la la do niente a nessuno la do no no mi avete rotto Gilmour ve lo giuro siete delle teste di cazzo mamma mia io ho tolto questo pallone con tutta la cattiera del mondo mo vi vado a fare gol solo perchè mi avete rotto Gilmour vai Lothar vai Lothar mo ve lo faccio merde umane mo ve lo faccio ma porca troia mi intervento guarda mi hanno entrato duro però santi Dio niente regà mi hanno fatto male a Gilmour sono proprio delle teste di cazzo un giocatore che sta gioando benissimo ce l'avevo qua vaffanculo devi stare lì per terra non ti devi più alzare giallo giochiamo duro dai c'entrano i maldini per Gilmour regà Gilmour è infortunato devi stare lì per terra vogliamo giocare duro non è che me timorisco perchè siete il Manchester City e via sta palla via Fighera Fighera c'ha 39 anni ho preso i 10 sta giornata palla in avanti palla in avanti per Maldini 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 Tino Maldini l'ha presa l'ha presa l'ha presa l'ho tirato pure di precisione ragazzi ancora un minuto e metto coda ancora un minuto e metto coda guarda guardiola come ha stretto il culo palla dentro è nostra l'ha salvata sulla linea cazzarola l'ha salvata sulla linea di petto l'ha stoppata di petto sulla linea attacchiamoli ragazzi stanno in difficoltà no 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 ora è parellato meno male stanno in difficoltà attacchiamoli facciamogli il culo a strisce dai 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 cambio gioco classen viene avanti la palla per Pitu vai Pitu ora torna sui due passi spero sia mia meno male bravo Pitu bravissimo Pitu dalla lui ecco Maldini mamma mia che palla gli ha dato a Maldini no 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 Pitu adesso copri adesso torna a coprire guarda questi se la passano di tacco e non ho parole chiudi la linea è mia si ma così è una palla di merda però siamo all'ottantatresimo non posso perderla ora torniamo torniamo tutti invece di tornare tre persone che questi mi puntano e mi superano la palla è lì attenzione chiudi 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 bravo Gigaibu bravo Gigaibu mamma mia scusa per tutte le volte no mettovelasco centrale scusa per tutte le volte ti ho insultato Gigaibu passa vicino che è meno pericoloso sembra almeno e invece mi ha superato palla dietro tiro Gigaibu ancora lui via sta palla vaffanculo vai vaffanculo non ve la meritate merde mi siete fatte metti sotto da una squadra come la mia occhio occhio chiudi chiudi mamma mia mamma mia quando finisce sta cazzo di partita ma perché velasco velasco deve entrare velasco deve entrare me l'hanno chiesto troppe volte ora gli faccio fare due secondi metto davanti butto nella mischia pure in coda sparo di non aver finito i cambi velasco deve entrare un terzino sinistro entrerà al posto di class vai 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 velasco ormai deve entrare se la sente vai via sta palla via sta palla quanti minuti ci sono di recupero tanto è nostra coda bravo ecco però cazzo è finita è finita così è finita regà è finita 0-0 mamma mia siamo ancora in gioco siamo ancora in gioco ragazzi miei prima di chiudere ragazzi guardiamo le me il giocatore infortunato 5 giorni per Gilmour poi comunque regà pazzesco che io abbia 48 di overall e c'ho tutto positivo tutto tutti i giocatori felici eccetera assurdo veramente assurdo detto questo ragazzi questa puntata finisce qui fatemi sapere la vostra mi raccomando con un commento qua sotto iscrivetevi al canale mi raccomando qualora l'aveste già fatto 2000 mi piace domani esce un nuovo episodio sulla carriera allenatore grazie per aver visto questo video buonasera all'allenatore come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.